Due a Paese, una a Castagnole, Postioma e l'ultimo di Padernello, quindi siamo a 4-5. La situazione è diventata davvero pesante. Cinque tra scippi e borseggi in poche settimane solo a Paese. Senza contare quindi gli episodi a Ponzano Veneto, Arcade, Villorba. L'ultimo caso sabato proprio a Paese, vittima una 76enne finita all'ospedale. Mentre era in sella la sua bicicletta è stata affiancata da un individuo in mountain bike, pelle chiara, che le ha strappato la borsetta facendola cadere a terra. L'anziana ha battuto la testa ed è dovuta ricorrere alle cure del pronto soccorso. Il sindaco ha chiesto alla polizia locale un potenziamento dei controlli. Ho già dato disposizione alle forze dell'ordine nostra e la polizia locale di intensificare i controlli dalle 10 alle 12 in tutto il territorio, in collaborazione ovviamente con l'arma dei carabinieri. L'episodio spiacevole è venuto a Paese, fortunatamente è stato ripreso dalle nostre videocamere. Abbiamo fornito il video ai carabinieri. Sono sulla buona strada, quindi io confido nell'operato delle forze dell'ordine. Non un ladruncolo improvvisato, ma un malvivente che osserva le sue vittime, spesso le segue dal bancomat o dall'ufficio postale. Il sindaco invita le anziane alla massima prudenza. Mi sento di dare un consiglio molto spassionato, almeno in questo periodo finché non riusciamo a portare a termine l'indagine, di muoversi mai da sole, magari accompagnate, possibilmente con dei familiari. Ecco, perlomeno in questo periodo qui. In bicicletta, attenzione, non mettete la borsa davanti al cestino, non tenete la tracolla perché l'episodio ultimo di Padernello, abbiamo visto che non porta poi a violenza e può anche finire male. Ecco,